Ciao, belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Iniziamo con un dolce ritratto. Ecco, dietro a questa giovane e dolce ragazza, apparentemente timida e impacciata, si cela una realtà davvero inquietante. Ma prima di scoprire il motivo inquietante per cui parliamo di questa ragazza, devo annunciarvi finalmente il giveaway per i 20.000 iscritti del canale. Esatto, grazie a Pampling ho avuto la possibilità di comprare 10 magliette e regalarvele. Partecipare al giveaway è facilissimo, basta seguirmi qua e su Instagram e commentare nell'ultimo post dedicato al giveaway, ciao, bello de zio. Fine. Facendo queste cose potrete partecipare e l'estrazione avverrà proprio tra i commenti di Instagram. E controllerò che mi seguiate sia qui che lì. Ma vi faccio vedere le magliette che ci sono in palio. Allora, 5 sono con questa grafica che vi era piaciuta tantissimo, quella di Gengar, e Ghastly, e Hunter. Ce ne sono 5 così. Poi ce ne sono 3 così, con gli omini di Pac-Man che si raccontano storie dell'orrore intorno a un falò. È bellissima. Poi c'è questa di Scream, con scritto ICU, ce n'è solo una. E la indosso anche in qualcuno dei miei video. E infine, sempre ispirata a Scream, c'è questa qui. Molto bella, devo dire che sono sicuro che comunque queste grafiche vi piaceranno. Ma spero proprio che il giveaway in generale vi piaccia come iniziativa. Per ora, purtroppo, abbiamo solo potuto regalarvi, tra virgolette, 10 magliette. Spero che in futuro riusciremo ad avere qualcosa di più allettante. Comunque, per chi se lo stesse chiedendo, il mio nome su Instagram è AndrewFile, se lo trovate scritto qui. Quindi, più facile di così, non esiste. Non avete scuse. Ok, ho finito. Grazie per l'attenzione, per questo piccolo giveaway. Ma adesso iniziamo con la storia di oggi. La ragazza protagonista di questa storia si chiama Yuka Takaoka, ed è nata il 28 gennaio del 1998 in Cina, alla mia età. All'età di soli due anni, si trasferisce in Giappone con la sua famiglia. Sul suo passato non sappiamo molto, purtroppo. Le poche cose che conosciamo della sua vita privata sono che, a quanto pare, avrebbe frequentato infermieristica al college. Dopo qualche anno, però, Yuka decide di abbandonare il college e comincia a lavorare come manager in un hostess club, a Kabukicho, un distretto di Tokyo. Spero di averlo pronunciato bene, anche se non credo. Comunque, Kabukicho è un quartiere molto popolare a Tokyo, per via dei suoi numerosi locali notturni e attività per adulti. Yuka era diventata abbastanza conosciuta su Instagram e TikTok, per via dei contenuti che pubblicava. Era una fan sfegatata degli anime e sui social postava spesso foto e video di lei mentre faceva il cosplay dei suoi personaggi preferiti. Uno dei suoi tipi preferiti di cosplay era quello delle Yandere. Le Yandere sono dei personaggi per lo più femminili, che si mostrano dolci e affettuosi. In realtà, nascondono una personalità deviata e ossessiva e diventano possessive e violente verso la persona che amano. Nell'ottobre del 2018, mentre lavorava nell'hostess bar, incontra un giovane uomo di 20 anni chiamato Phoenix Luna. Lavorava anche lui come manager in un host bar molto famoso da quelle parti. Si chiamava Fashion Night Club. Lui era molto popolare fra le persone che frequentavano queste tipologie di bar, arrivando spesso anche tra i primi in classifica per essere il più richiesto. Tra un po' capirete di che cosa si parla. Oltre ad avere molte cose in comune, i due si trovavano pure a lavorare nello stesso settore. Questo gli permetteva di avere molto spesso gli stessi orari e quindi potevano passare il resto del tempo libero insieme. Nelle settimane successive al loro primo incontro, i due iniziano a vedersi sempre più spesso. Yuka gli chiedeva di uscire in continuazione per andare a guardare un film o fare qualsiasi cosa in realtà insieme. Dopo qualche mese, i due cominciarono una vera e propria frequentazione. La loro relazione però non era tutta rosa ai fiori. Proprio quel lavoro che gli permetteva di vedersi così tanto spesso, divenne anche motivo di discussione. Gli Hostess Club, infatti, sono locali nei quali i consumatori non pagano soltanto per bere qualche drink o ascoltare della musica. Oltre a questo, la maggior parte dei clienti si trova lì per affittare un bel ragazzo o una bella ragazza e per poterci parlare per qualche ora. Per via di questo, Yuka stava diventando sempre più possessiva nei confronti di Luna. Anche se abbastanza incoerente da parte sua, visto che anche lei faceva la stessa cosa. Comunque monitorava spesso dove si trovava e controllava costantemente il suo telefono mentre lui non guardava. Era diventata talmente tanto possessiva che addirittura arrivò a prenotare tutti i posti disponibili di Luna per passare tutto il tempo con lui. In questo modo non avrebbe visto altre donne oltre a lei. E sentito un po', arrivò a spendere più di 9.000 euro al mese per questa sua ossessione. Perché ovviamente prenotare le sue sessioni costava, ma lei non interessava, lo voleva tutto per sé. In questo modo un po' malato passarono i mesi e il 23 maggio del 2019 sorprendentemente la loro frequentazione continuava ad andare avanti. E nonostante alcune tensioni qua e là, i due dicevano di essere molto felici insieme. Yuka stava ancora gestendo l'hostess bar e gli affari andavano molto bene. Però si era presa un paio di giorni di ferie dal lavoro per sistemare alcune cose in casa sua. Aveva quindi chiesto a Phoenix di passare a casa per aiutarla con un paio di lavoretti che non poteva fare da sola. Quella sera però l'uomo era arrivato a casa più tardi del previsto, perché aveva avuto un turno in più al bar. Appena è entrato in casa, chiede a Yuka se potesse farsi un bagno, perché era stanchissimo e voleva rilassarsi un po'. Per lei ovviamente non c'erano problemi. Phoenix quindi va in bagno e si rilassa, al punto di addormentarsi. Yuka allora ne approfitta e gli prende il telefono per controllare come faceva spesso. Mentre lo ispeziona da cima a fondo, all'improvviso trova delle foto di lui con un'altra donna. Fatta questa scoperta, Yuka si infuria e comincia a pensare che quella era una prova schiacciante del fatto che lui la stesse tradendo. Una volta che l'uomo si risveglia e finisce di farsi il bagno, quindi si mette la biancheria e va a letto insieme a Yuka, ignaro di quello che stava per accadere. Era stanchissimo e nel giro di pochi minuti si addormenta. Nel bel mezzo di quella notte, Phoenix si sveglia all'improvviso con un dolore lancinante allo stomaco. Appena apre gli occhi, vede Yuka sopra di lui. I due si guardano e una volta abbassato lo sguardo sulla pancia, vede un coltello conflitto proprio nel suo addome. Era talmente in stato di shock che smise di sentire il dolore e preso dall'adrenalina spinse via Yuka con forza giù dal letto. Quindi comincia a correre per scappare da quell'appartamento. Yuka però lo insegue e proprio sulla porta d'ingresso riesce ad afferrarlo per la maglietta. Nonostante quella coltellata, Phoenix era comunque più forte di lei, quindi la spinge per terra e corre finalmente fuori dall'abitazione. Raggiunge l'ascensore e riesce a schiacciare il pulsante del piano terra, però stava perdendo tantissimo sangue. Una volta raggiunto il piano terra, si precipita verso l'uscita, ma non appena qualche passo fuori da quell'ascensore, Phoenix perde conoscenza. Una persona che passa di lì vede il corpo del ragazzo disteso in una pozza di sangue e chiama immediatamente l'ambulanza e le forze dell'ordine. Quando la polizia arriva, vede il corpo steso a terra e la cosa inquietante è che prima ancora del loro arrivo, Yuka lo aveva raggiunto e se ne stava là, seduta vicino al suo corpo. Questa foto è stata scattata pochi minuti dopo l'arrivo della polizia e possiamo vedere come Yuka fosse molto tranquilla. Fumava addirittura una sigaretta ed era al telefono a parlare con una sua amica. Oltre a questo, Yuka, prima che la polizia arrivasse sulla scena, era riuscita a scrivere una lettera con il sangue, scrivendo ripetutamente Gli agenti arrestano immediatamente la ragazza. Quando un ufficiale le chiese perché lo avesse fatto, lei rispose così Un famoso video fatto quel giorno riprende Yuka all'interno dell'auto della polizia, mentre sorride come se non si rendesse conto di quello che aveva appena fatto. Fortunatamente però, Phoenix Luna è ancora vivo. Viene subito trasportato in un ospedale locale dove rimane in condizioni critiche per qualche giorno, rimane lì per circa un mese e anche se fisicamente stava bene, la sua psiche era distrutta. Dice che dopo essere uscito dall'ospedale ha cominciato a soffrire di attacchi di panico e racconta di non riuscire a dormire la notte per paura che qualcuno lo uccida nel sonno, comprensibile. Era talmente traumatizzato che ha pensato di abbandonare anche il suo lavoro, ma ad oggi continua a farlo. Nonostante tutto questo, dice di non avercela affatto con Yuka e anzi ha chiesto addirittura che le venga fatta una riduzione di pena per poterle permettere di ricominciare un'altra vita. Nonostante questo, il 5 dicembre 2019, un tribunale ha condannato Yuka a 3 anni e 6 mesi per tentato omicidio. Lo so, è strano. Solo 3 anni e 6 mesi per un tentato omicidio. La spiegazione però è ancora più strana. Lo stesso Luna Phoenix, prima del processo, ha stipulato una sorta di accordo con lei. Lui avrebbe pagato 5 milioni di yen, l'equivalente di 47 mila euro, al tribunale per ridurre la sua pena. E il tribunale accettò, e questa cosa mi ha sconvolto, Durante la reclusione di Yuka, questa storia divenne virale. Le sue foto e i suoi video dove sorride sono diventati iconici, e la gente rimaneva affascinata da questa strana ragazza. Tanto che, se cercate Yandere su Google, vi apparirà proprio una sua foto. Cominciarono a nascere community di fan, la maggior parte dei quali fan ossessionati dagli anime. Spuntarono in giro per il web numerosissime fan art che ritraggono Yuka nei contesti più strani, e venne addirittura inserita come personaggio in un videogioco. Cominciarono a chiamarla The Real Life Yandere. Anche il suo profilo Instagram originale, che ad oggi rimane online, crebbe a dismisura. E infatti ora ha più di 80.000 follower. In queste pagine o nei commenti sotto le sue foto, le persone scrivono che secondo loro non si meritava di essere condannata per quello che ha fatto. Alcuni dicono anche di essere innamorati di lei, e hanno persino organizzato una campagna per farla uscire di prigione su un sito di crowdfunding. E prima che la campagna venne chiusa dal sito stesso, raggiunse circa 3.800 euro di donazioni. Forse tutti loro si sono scordati che oltre alla storia, sicuramente affascinante per quanto macabra, una persona reale e innocente avrebbe potuto seriamente perdere la vita. Yuka ad oggi si trova ancora in prigione e verrà liberata a giugno del 2023. E sarà molto interessante vedere che cosa succederà, perché il suo rilascio è davvero vicino. Io trovo semplicemente assurdo, come sempre, tutto il fatto delle fanpage e le persone ossessionate. C'è ragazzi, questa ha provato a uccidere il suo ragazzo senza neanche chiedere gli spiegazioni per quelle foto. E qualcuno la sta adorando? Per me questa cosa non ha senso, ma comunque ha ancora meno senso il comportamento di lui. Specialmente se è vero che ha iniziato a soffrire di attacchi di panico a causa di Yuka. Voi cosa ne pensate? È tutto normale e sono io che mi sto scandalizzando troppo? O forse c'è stata una reazione piuttosto strana nei confronti di questa vicenda? Fatemi sapere tutto quello che pensate. Prima di salutarvi, spero che parteciperete al giveaway e spero anche che la storia di oggi vi sia piaciuta, per quanto malata. Detto tutto questo, grazie per essere stati con me anche oggi e, come al solito, io vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao! Ciao!